Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video sulla serie Alpenflyer Oggi siamo in compagno di Marco Ciao a tutti Inchia... avete l'onore di sentirlo parlare oggi Allora, prima cosa, compriamo Campo 8 Dovevamo comprare la volta scorsa perché mi sono dimenticato tra una cosa e l'altra Campo numero 8 ho comprato Allora, oggi prima di tutto svuoteremo la vasca al BGA che abbiamo riempito trinciando il campo 7 Poi abbiamo i campi 1, 2 e quello là che non è numerato ad orzo che trebbieremo dietro le quinte Allora, comunque... vabbè, ci siamo solo io e Marco perché è stata una decisione improvvisa a registrare questa puntata Perché dovevamo registrare l'Alpenflyer ma mancavano tutti, mancano tutti praticamente Sì Sì, la Stappenbach, ho detto Alpen? Sì Boh, vabbè, sono rimbambito La Stappenbach ma mancavano tutti e allora niente Abbiamo optato per il piano B quindi l'Alpen E quindi è per questo che non c'è nessuno di voi o neanche gli altri Comunque questa serie qua, adesso vi dico una cosa Questa serie qua, l'Alpen, durerà ancora poco Arriveremo a 30 puntate e poi finirà Perché comunque già quando l'ho iniziata avevo deciso di farla durare poco Allora, intanto qua aumento un po' il tempo Mettiamo 15 E poi ne inizierà un'altra Che sarà una cosa diciamo un po' diversa Quella nuova Prima di tutto Cambieremo server Questo qua Cioè lo cambieremo, aumenteremo i posti Non abbiamo ancora deciso quanti Ma sicuramente 12 posti ci saranno Poi forse o 14 o 16 anche Quindi capirete anche voi cosa intenzione di fare Se metto così tanti posti Non li metto così a cavolo Giusto per spendere soldi Quindi vuol dire che sarà una cosa grande Una cosa molto in grande Che poi a breve magari farò un video Una sorta di preview Allora aumentiamo pure il tempo No, non devo buttare fuori 120 un attimo perché si svuota qua Sennò non ci sta dietro Dai, dai, dai Oh, digestore Muola te È un pigrone sto digestore Come te No, no, devi, devi Come Nico Ecco, Nico uguale Occio Se alza una roda Vediamo se c'è la faccia da dentro O faccio disastro No, dai Pensavo peggio Lag Io non stasera Io ancora No, ma A me È il primo, eh Fino adesso Però ogni tanto Tira qualche schiattino L'altra volta Sì Sì, la scorsa volta Invece c'erano tanti lag Comunque Cambiando discorso Ho visto che Sembra che vi sia piaciuta L'idea Di cui vi abbiamo parlato Io e Mattia Nel video Che è uscito qualche giorno fa Cioè di Minecraft Visto che comunque In generale Come idea piace Quindi A breve cominceranno Anzi Magari Quando uscirà questo video Ne sarà già uscito uno Perché Stiamo registrando sabato sera Ma Questo video dovrà Se non sbaglio Uscirà mercoledì Quindi Magari Non so Dipende Mattia Quando Come si organizza Magari Lo fa uscire già Martedì il video Perché non so se magari Avete capito Ma Minecraft lo farà Mattia Perché io non ho Minecraft Sarà proprio Mattia A registrarlo E caricarlo Questo per chiarire Perché Alcuni Alcuni Tra cui Giovanni Lo dico Tra cui Giovanni Non aveva capito E ciao Ciao Giovanni Se stai guardando Il video E comunque Non me la sto cavando Male da dentro Pensavo peggio Anche se ogni tanto Ti intralcio Lo so Comunque Big money Arrivano Ecco Ecco Lagone Adesso E contando Il fatto Che su sto salvataggio Siamo in difficile Quindi Sono tanti Eh Ne abbiamo fatto un po' C'è da calcolare quello Che essendo in difficile I guadagni sono molto ridotti 40 mila 50 mila Beh Non è male dai Ah dai Ragazzi Io direi Che vi metto Un pezzettino Velocizzato Con la musica Così Almeno Mi annoio un po' meno Beh qua Però abbassiamo un po' il tempo Se no Vi è notte La musica La musica La musica La musica La musica Grazie a tutti. 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 Ok ragazzi, siamo andati un po' avanti e abbiamo svuotato ancora un po', poi qua ne abbiamo lasciato 161.000 litri che continueremo dietro le quinte a svuotarla, perché adesso non abbiamo molto tempo, quindi dobbiamo chiudere. Allora, dobbiamo fare una cosa importante, cioè, fammi mettere la supervelocità e ce ne andiamo allo store. Allora, guarda come corre l'uomo. Sempre è sempre molto grande, sempre monosame. E' un po' di rientrare tanto. Si, esatto. Giusto? Giusto? Sì, sono riuscito a iniziare, ma poi... Eh, poi il tuo computer smart ha deciso di... Ha deciso ancora. Ecco, ha deciso di fare i capricci. Ha deciso di fare i capricci. Oh, no, no, sono caduto. Aia, sono fatto male. Non ci sto capendo niente. Dove sto andando? Ah, eccolo qua la terribile. Dai, continuo io. Eh, qua quando sei crashato avrai tirato dritto, sicuramente. Vabbè, comunque ragazzi, direi che per questo video è tutto. Sì, dai. Con i minuti... Forse siamo un po' corti, ma non fa niente. Siamo comunque vicini ai... Ecco qua, che si blocca. Siamo vicini ai 15 minuti, che come ho già detto diverse volte... Eh... Adesso... Terro sempre video sui 15 minuti, così... Ci metto meno tempo a caricarli e posso caricarli con qualità maggiore rispetto a prima. Perché prima... In realtà prima... Li facevo sempre in 720p, come adesso. Cioè... HD. Non sto a farli in full HD perché sennò mi vengono a pesare 3GB e... E non ho voglia di metterci 24 ore per caricare un video. Già ci mette troppo così. Eh... Prima... Usavo Freemake per alleggerirli. È per quello che i video erano... Cioè... Era più scarso di qualità perché... Freemake alleggerisce il video, però alleggerendo il video perde qualità. Era per quello che si vedeva un po' magari sgranato e così. Semplicemente per quello. Adesso qua... Apriamo il canotto perché la 3B è piena. Adesso qua... Fammi capire... Si è buggato il particle? No. Per fortuna. Qua abbiamo il class... Qua abbiamo questo... Ti hai ripreso un rimorchio? No. 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 Allora prendo io. Fammi vedere cosa c'è qui... Cosa c'è qui... Cosa c'è qui... Prendo il same. Col crampe. Visto che è già pronto. Allora ti accendi il same. Dai... Andiamo col sametto. Guarda... Oh Marco finalmente eh! Un bacone. Chi è che ha messo la freccia? Un bacone. Chi è che ha messo la freccia? Era un fail. Un bel fail. Se non ci passava sotto. Ma per fortuna non è così nana sta trebbia. Vabbè ragazzi direi che... Per questo video finalmente è tutto. Un quarto d'ora tra un po' che l'ho detto. Che chiudevo il video ma... Niente. Dobbiamo sempre dilungarci per chiudere il video. Io vi invito come sempre a lasciare un bel like. A commentare. E iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi salutano i due perai qua che... Stefano che ha computer smarts quindi è fuori. Da partita. Dai! E niente noi ci vediamo al prossimo episodio. Che probabilmente compreremo l'attrezzatura e inizieremo con le barbabietole. Ciao a tutti ragazzi!